Questo video riguarda i migliori tre lettini da campeggio per bambini. Il vincitore della qualità è il Lionelo Flower. Ha un'entrata laterale per i bambini più grandi. Un fasciatoio sicuro con imbottitura morbida garantisce comfort. L'archetto con giocattoli pendenti ha un effetto positivo sullo sviluppo dell'immaginazione e delle capacità motorie dei bambini fin dai primi giorni di vita. Di un tappetino in spugna con maggiore flessibilità. Grazie alla possibilità di sospendere il materasso su due livelli, Flower può fungere da lettino da viaggio e box. Pieghevole per dimensioni compatte Flower è comodo da usare anche in viaggio. La borsa protettiva consente di trasportare liberamente il box dopo la chiusura. Protegge dalla chiusura accidentale del box. Tutti i bordi del lettino sono stati fissati con coperture profilate per garantire la massima sicurezza per il bambino. È stato sottoposto a una verifica in più fasi in un laboratorio di certificazione SGS indipendente. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il cam mondo del bambino. Informazioni di utilizzo da 0 a 36 mesi Descrizione con ampia tasca portoggetti giocose serigrafie materassino in tinta borsa da viaggio Chiusura compatta dimensioni e pesi aperto L126,5 P66,5 H75 cm chiuso L20,5 P20,5 H75 cm 7,2 kg sicurezza riferimento normativa europea. In 716 trattino 1 barra 2 test impatto dinamico sulla base per verificare la resistenza del fondo test stabilità laterale, frontale e posteriore per evitare il rischio di ribaltamento del prodotto con il bambino al suo. Interno test del morso test anti intrappolamento della catenella barra ciuccio materiali completamente atossici ed esenti daftalati. Il vincitore del premio è il Foppa Pedretti Tettitur. Da 70 anni Foppa Pedretti è sinonimo di qualità dei materiali, praticità, funzionalità e maneggevolezza, insieme a ricercatezza nel design e attenzione alla sicurezza. Una filosofia aziendale valida per tutti i prodotti in legno ma che si è fortemente confermata anche per i prodotti e tecnologi in metallo e altri materiali, introdotti in tempi più recenti. Foppa Pedretti ha deciso di diventare sinonimo di qualità, funzionalità e sicurezza anche nel settore dei prodotti per la prima infanzia realizzati con materiali diversi dal legno, proponendo una gamma di prodotti dedicati ai bambini e alla loro crescita all'insegna dell'innovazione. Foppa Pedretti è presente nel mercato del passeggio con sistemi combinati e passeggini pratici e funzionali, dal design elegante e trendy all'insegna dell'italianità. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.